Un'ultima cosa, lei non potrebbe indire un'assemblea pubblica come lei ha annunciato e invitare tutti oltre a Terrenzi e altro, se dopo non si presentano come io quando faccio l'intervista, io vorrei farla, però se non si presenta i cittadini lo devono sapere perché non è che non è stata fatta. L'intervista è di teoria, però lui non l'ha voluto, è diverso da non ci sta, non si è fatta. No, no, noi l'abbiamo detto, lo dovevamo indire, poi io ho avuto come tu sei, le problematiche che ci ho avuto, per cui adesso un attimo, però questa è una cosa che faremo, e faremo anche in occasione del bilancio noi. Io spero di vedervi anche se devo essere sincero, per quello che è stato detto, anche stasera, partecipare attivamente. Una cosa a cui noi non scegliamo, io perlomeno, quando uno è stato preso in giro, se tu mi avessi preso in giro, io non dovrei accettare qui in ufficio a fare l'intervista, ma siccome sei una persona corretta e l'hai riportata più volte, me l'hai chiesto con stesse menti pure, e quindi te li puoi solo ammirarti, ti ho detto, vieni tranquillamente, anche se oggi avevo avuto qualche problemino quando avevo riannunciato, però l'ho ricevuto. Oggi, io, andare all'assemblea, convocato dal PD, non il sindaco, se fosse stato il sindaco, cioè sarebbe stata una cosa diversa, convocato dal PD, per l'allargamento della città, si avrebbe stravolto quello che gli elettori hanno deciso, ma io non ti do nemmeno, non ci parlo per questo, se avessero fatto una cosa diversa, questo è il tema, discutiamo del tema del sindaco più amare, ma in termini non sospetti, con la donna di correttezza, con la donna di realtà e rispetto al regime, noi saremmo stati implementati a partecipare. È possibile richiedere i bilanci comunali precedenti degli ultimi 3 o 4 anni? Se me lo potete fare avere? Allora, io, dovrei fare anche una copia, penso che io, a parte che diventa un pubblico, un po' da provare, intenzione, se fosse, Indonia, sì, però sì, sì, ci seguiamo. Grazie per l'intervista, grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.